ciao ragazzi mi è tornato sul canale quindi mi sembra un dovere fare la reazione di questo super programma per generare video con l'intelligenza artificiale in italiano quindi andiamo su chat gpt e scrivo scrivo su chat gpt usando queste idee quotidiane consiglio di usare le idee quotidiane copio e incollo il titolo poi scelgo perché l'altra volta non avevo visto questo select template quindi ed ecco qua il video è pronto, quindi andiamo a vederlo guardate ragazzi, sembra proprio, now mi cambio perché potete mettere comunque nel custom se avete il profilo Enterprise è un pochettino più costruoso ma potete mettere anche la vostra faccia e quindi trasformare voi stessi in un'intelligenza artificiale, volendo o mettere i vostri attori preferiti, quindi potreste mettere la Omicap o George Clooney che fa i vostri video però quello solo nell'Enterprise invece per iniziare a usare il programma andate nel link di affiliazione sotto ed è avete un minuto per fare il primo video però se voi usate la Fusion Mobile avete gli shorts quindi invece di fare un video lungo da un minuto potreste fare 5 shorts da 20 secondi e quindi al costo di 0 perché il primo minuto è gratis avete 5 video con una delle migliori intelligenze artificiali al momento perché comunque io adesso avrò fatto 300-400 video con le intelligenze artificiali e sto vedendo che questo programma è ultimo veramente e sono veramente orgoglioso che stiano facendo la sponsor con me ed è la prima volta nel canale che abbiamo una collaborazione a lungo termine con uno dei migliori programmi comunque volete rendervelo noto in italiano perché comunque è un'agenzia che lavora in Corea del Sud e sono molto tecnologici infatti è anche sempre un caso che viene proprio da lì non ha caso comunque potete fare le news potete fare tutti i video con l'intelligenza artificiale impiegate un minuto due minuti quindi per questi tempi moderni che bisogna fare video in fretta è perfetto questo programma quindi vi consiglio di andare nel ciò di affiliazione e provarlo perché appunto registrarsi è totalmente gratuito quindi ci vediamo nel prossimo video ciao